In questa video lezione oggi ti mostrerò come fare i bomboloni Un'altra pieghera a tre Ecco, non troppo caldo altrimenti brucia Andiamo a friggerne un paio Non mettiamone troppi Così, ok Adesso se il bombolone è lievitato bene Dovrà iniziare a gonfiarsi da questa parte Andiamo a girare poi sotto sopra Andiamo a finire la cottura Vedete come sta iniziando a gonfiarsi Bene Li giriamo Facciamo due o tre minuti per lato Ecco qua Il bombolone Et voilà Questa è una ricetta, il tipico bombolone romagnolo Quindi tende ad essere vuoto in centro Più o meno come un vignè E spero che questa lezione ti sia piaciuta E ci vediamo alla prossima lezione Ciao Ciao Grazie a tutti.